buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale oggi andremo a dipingere questo mazzo di papaveri lo trovate sul mio album numero uno in vendita online di cui vi lascio il link in box informazioni prima di iniziare vi ricordo che se il video vi piace potete lasciarmi un like ed iscrivervi al canale attivando la campanella per avere le notifiche delle prossime uscite sto disegnando un mazzo di papaveri a mano libera osserviamo adesso come dipingo i contorni di questo fiore dipingerò come se stessi usando dei colori ad olio su una tela quindi userò dei colori molto pastosi e li userò in maniera anche abbastanza grossa grossolana in modo da avere un effetto un po meno fotografico e sicuramente un po più impressionista i colori che sto usando sono i due rossi un po più chiaro più scuro e un giallo primario questo è un vero e proprio color papavero in realtà i papaveri esistono di colori ed è facile trovarli bianchi gialli viola ma quando si parla di papaveri di solito si pensa al papavero di prato in questo caso il papavero è rosso un bel rosso carminio con qualche sfumatura di giallo perché riflette la luce del sole ho messo nel piattino i seguenti colori il bianco il giallo primario ho già detto due rossi un marrone abbastanza scuro e uno invece più caldo che è quello posato vicino ai due rossi poi ho messo dopo il marrone scuro il nero e il blu il nero è indispensabile perché tutta la parte interna dove ci sono le palline polline e il papavero è nero nero e basta e per di più anche delle macchie profonde nere sul petalo nero che però per renderlo più vivo e più rilievo mischierò con il marrone e il blu questo mi permetterà di sfumare nero ma anche di renderlo più profondo vedete adesso in ombra ho preso un po di nero guardate e un po di marrone perché vado a riportare questo colore così scuro un po in tutte le zone che rimangono nascoste e in umbra. Non è facile dipingere la stoffa come si trattasse del colore a olio perché colore a olio non c'è la stessa coprenza ma con i rossi si può azzardare certamente è molto più complesso con altri colori soprattutto con i colori chiari perché sono meno coprenti i colori per la stoffa. Vedete come ho già messo parte del nero all'interno della corolla è sempre sfumato però mai completamente nero altrimenti non risalterebbe con il pennello sto cercando di fare delle pieghe a questi petali e lo faccio tenendo il pennello piatto che è il solito pennello che uso anzi questo è quello molto grande con il numero 12 tenendolo di taglio riesco a fare delle sfumature che mi danno l'impressione della carta crespa e quindi del petali increspato. Non uso naturalmente solo il rosso ma porto i colori più chiari più bianco o giallo sopra il vostro in modo da sfumare o i colori in modo da sfumare andando verso la luce Qua è in lato qualche sprazzo più chiaro perché la luce colpisce sì uniformemente in una determinata zona ma è anche vero che attraverso i movimenti del fiore traspare anche nella parte inferiore in fondo un papavero è fatto di quattro petali e questi tendono a muoversi e a separarsi quindi a fare entrare la luce. Vedete come sto sfruttando il colore è molto scuro anche perché ho disegnato un papavero che è a testa in giù adesso sto facendo la parte interna quella di cui parlavamo prima e dove sto utilizzando il nero il marrone e il blu quindi con il pennello prendendo il colore con la punta laterale prendendo il colore di taglio prelevo un po' di marrone, un po' di nero, un po' di blu a volte tutti e tre insieme, a volte l'uno e a volte l'altro in modo da portare diversi colori sulla stoffa e ottenere un effetto profondità ma facendo notare anche i puntini che sto creando sul video è probabilmente molto più difficile vederli rispetto alla realtà soprattutto se state guardando da un cellulare certi piccoli particolari non riuscirete a vederli in questo papavero sto iniziando direttamente dalla parte centrale quindi sto cominciando con il nero e il petto parlo di nero ma in realtà sono tre colori insieme questi petali li sto dipingendo dapprima mettendo le parti più scure quindi vado sotto sotto la piega di questi petali qui siamo in una zona molto in ombra è necessario ricordarsi quando si dipinge che quanta più luce c'è tanta più ombra ci sarà perché la differenza diventa più ampia infatti se noi facciamo caso per esempio in un giorno di nebbia i colori sono piatti, sono tutti grigi non vediamo le differenze proprio perché la luce è troppo bassa adesso guardate come dal nero piano piano sfumo viro verso il rosso e continuo a segretare questi petali come fosse un ventaglio per dare questo effetto di increspato i petali dei papaveri sono meravigliosi perché sono proprio increspati sono quasi accartocciati secondo me il petalo all'interno del bruciolo sta tutto accartocciato e quando esce fuori nella sua breve vite il petalo non riesce a distendersi più di tanto come vedete sto mettendo parecchia luce con del bianco e del giallo sopra questi colori più scuri sopra rosso più scuro quindi dal colore scuro diciamo nero che poi abbiamo già spiegato che proprio non è passo al colore rosso e infine le estremità dei petali sono sfumati con bianco e giallo tutto questo senza mai pulire il pennello perché lascio che i colori passino l'uno dentro l'altro in questo il pennello mi aiuta il pennello lo pulisco solo quando decido di fare un colore bianco puro o giallo puro e così via in questo caso non è guardate qui adesso in queste increspature dei petali vedete? ho preso il colore bianco ma il colore bianco non si distacca nettamente dal fondo proprio perché il pennello contiene dentro di sé anche gli altri polvoti qui sto mettendo del giallo stessa cosa stessa cosa stessa cosa stessa cosa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.